Ed eccoci ora in cucina, lo spazio del Cucinando con MD puntualmente. Chef Ferio, buongiorno Chef. Buongiorno a te Mary, guarda come ti saluto. Ti saluto con un bel po' di linguine che vado a calare per la nostra ricetta di oggi. Quindi è un primo piatto Chef. È andata la linguina. È un bel primo piatto, quindi come abbiamo dedotto linguine, porcini e gamberetti. Wow, un bel avvinamento. Semplicissima da realizzare. Semplicissima, Mary. Semplice, semplice, semplice. Allora, quindi porcini, gamberetti, lumine, un abbinamento inusuale, diciamolo Chef. Non è che tutti quanti la mattina ci svegliamo e diciamo cuciniamo lumine, porcini e gamberetti. Mentre per il nostro pubblico sicuramente già l'avranno provato, sotto altre vesti forse, ma oggi lo proviamo in chiave sul serio. Bravo, sul serio. In chiave, Chef Ferio, quindi sul serio. Allora, spicchio d'aglio. Bene. Peperoncino. Vediamo l'inizio di questa prima fase di preparazione. Ma non lo tritiamo, ma lo mettiamo intero, in modo da pigliare solo il sapore. Nel frattempo ho ammollato un po' di funghi porcini. Esatto, perché quelli là sono secchi. Erano secchi, vedi? Ho ammollato un po' di porcini e li ho messi qui. Nel frattempo mi sguscio i miei gamberetti, guarda. Un po' di pazienza, ci riusciamo. E uno. Mary, questo è un piatto. Ah, pensavo Mary, perché non li sgusci sui miei gamberetti? No, no, no. Grazie, chef. Lei è clemente, molto clemente. È semplicissimo, Mary. Faccio lei, faccio lei. La media, più o meno, dici, ma quanti gamberetti devo comprare? Esatto. Quanti ne devo acquistare? Un chilo, due chili, dieci chili? No. No, bastano 4-5 gamberetti a testa. Il perché? Te lo spieghi? Te lo spiego subito. Perché noi usiamo il sapore, lo andiamo a prendere da qui, dalle teste, no? Ah, quindi si fa un fumetto, come si dice in cucina. Ma un mezzo fumetto, guarda. Un mezzo pseudo fumetto. Lo andiamo a mettere qui. Quindi, contrariamente a quello che io pensavo, chissà voi, voi siete chi bravi di me, giustamente dice Ciorferio, non abbiamo inserito nell'immediato i gamberetti viscerati, bensì la testa, perché lì all'interno che troviamo tutto quel buon sapore, quindi stiamo un po' soffriggendo, facciamo rilasciare quella che è l'aroma e poi chissà che cosa accade, vediamo lì. Togliamo dalla fiamma, vedi? Sì. E gli aggiungiamo un messolino d'acqua. E lasciamo sempre le teste dei gamberetti lì? Sì, li mettiamo sull'acqua qui, se è spinto. Ok, quindi linguine, no spaghetti chiedo scusa, no ho detto bene. Linguine, 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 linguine. Gamberetti e fumi, porcini. Allora Mary, le linguine stanno cuocendo. Che facciamo? Non lo so, questo ciò devi vedere tu, Chef. I nostri gamberetti li tagliamo lato d'orso, perché gli andiamo a togliere, vedi, l'animella, vedi? Cosa succede se non tolgo l'animella, Chef? Ma esteticamente è bruttissimo. Poi può restare un po' di amaro in bocca. Quindi noi, fatto ciò, facciamo due operazioni. I gamberi diventano più di più. Ok. Quindi abbiamo fatto un intervento bello pulito al gambero. Sì. Vedi? Semplice da realizzare. E se non hai voglia di farlo, lo chiedi in pischeria e te lo fanno. Sì. Andiamo ad aggiungere i gamberetti in padella, vedi? Naturalmente, Chef Ferio, la cottura degli stessi è veramente minima, minima, perché il gamberetti è subito cuocito. Quindi fate attenzione, non restate appiccicati sullo smartphone, perché rischiamo poi di bruciare i gamberetti. E poi patatracca, non viene bene il piatto che ci ha consigliato Chef Ferio quest'oggi. Andiamo a inserire anche i nostri porcini. Con i porcini non li tritiamo, lasciamoli belli interi, sì, così. E ricordiamo di conservare un po' d'acqua. D'acqua di cottura, cioè d'acqua di rilascio. Esatto, di rilascio dei porcini. Vedi? Aggiungiamo ancora un po' d'acqua in padella. Mi dai qualche foglio di prezzemolo e basilico? Prendiamo un po' di basilico. Abbiamo basilico e prezzemolo a metro zero. A metro zero, no? L'abbiamo qui vicino, vicino, vicino. Tra l'altro questa è una filosofia che coltivi anche tu al tuo ristorante mangiando su sello. Sì, ho il mio orticello. Tuo orticello. Le mie piantine. Ti utilizzi proprio all'uopo quando i tuoi clienti vengono da te. E quindi ti piace aromatizzare i piatti con queste foglioline. Mary, ho schiacciato un po' le teste dei gamberi. Che rilascia un po' di sapore. E le sto già togliendo, vedi? Quanto prezzemolo, Chef? Ma basta qualche fogliolina solo per il decoro. Basta già così. Bene? Sì, sì, perfetto. Grazie Mary, grazie. Prego. Vedi come è brava anche a raccogliere il prezzemolo, Mary. È diventata bravissima. È diventata bravissima. Allora Mary, queste linguine hanno 10 minuti. Questa è una lettera dall'Italia. Lettere dall'Italia, sì, guarda che prodotto. Linguine lettera dall'Italia. Vedi? Pasta di bagnano, IGP. E hanno una cottura di 10 minuti. Noi ad 8 minuti andiamo. Capito, Chef, dobbiamo risultare? Bravissimo. Ad 8 minuti. Dall'altro, Chef, questa è una tecnica che si sta utilizzando molto in cucina, anche dai tuoi colleghi. Cos'è che rende così particolare lo spaghetto per appunto quando viene risultato? Cos'è che cambia? Ma Mary, in verità, non è che l'hanno inventato i miei colleghi adesso, no? Assolutamente, forse loro quando io la usavo, forse loro ancora non c'erano, non facevano questo mestiere. Questo l'hanno sempre fatto i nostri maestri del passato, no? Quindi il mio Chef era sempre portato a risultare la pasta. Poi per un periodo di tempo è scomparsa. Però sai, intrando proprio lo spaghetto, da risultare lo spaghetto, perché ecco... Sì, perché poi lascia gli amidi, le proteine e si amalgama il tutto. A questo punto, Mary, guarda, facciamo un'ottima inversione di miei padella, perché mi serve un fuoco più vivo, sì. Bello, vivace, vivace, dove tutti questi liquidi andranno ad assorbirsi, no? Questa la possiamo spegnere. Quindi ricordiamo, 10 minuti a 4 minuti? Ah, sì, 10 minuti ad 8 minuti. Ad 8 minuti dalla cottura. Andiamo ad alzarlo, sì, per risottare. Prendiamo un altro bel piatto. Perfetto, naturalmente facciamo attenzione quando poi avviene la risottatura dello spaghetto, quindi tant'è vero che Chef Ferio ha lasciato a latere l'acqua di cottura, perché probabilmente ci occorrerà da aggiungere poco per volta. Esatto, mi aiuto. Non ripercorriamo l'errore di qualcuno. Mi aiuto sia con l'acqua di cottura della pasta e sia con l'acqua di rilascio. No, dicevo, l'errore di qualcuno Chef magari poi inserisce troppa acqua di cottura e poi non assorbe, per cui non hai il risultato che vuoi. Non so se ce la facciamo con i nostri tempi Ma ce l'abbiamo sempre fatta Ci riusciamo anche questa volta Quindi aggiungiamo un po' di pepe Anche ci abbiamo messo il peperoncino Ma abbiamo subito Intanto l'abbiamo eliminato Sì, aglio, peperoncino Teste dei gamberi Abbiamo eliminato tutto Guardi, assume quel colore Marroncino del porcino Ma ti assicuro che Il colore è quello del porcino Ma il sapore è un sapore di mare Sapore di mare Questo incontro è terra mare, chef Questo è vecchio come il mondo Meri, è un piatto vecchissimo come il mondo Però c'è questa tua marcia sul serio E nasce sui paesi di montagna Questi qua Decidamente io l'ho mangiato Tanti anni fa, ero piccolo Ad Avellino Ti è piaciuto il primo sapore? Bravissima, è un piatto che mi porto dietro Da bambino Perché, chef, un po' i sapori cambiano E l'ho fatta in mille modi Con gli scampi Con i gamberi Con l'astice Qual è la versione migliore? L'ho ripetuta poco tempo fa Qualche settimana fa al locale Con astice e porcini È riuscita una bomba Dobbiamo andare a ritrovare Chef Ferri al suo ristorante Mangiando sul serio Si trova a 9 a 2 passi da Vulcano Buono Ricordava via San Massimo Volta scorsa, chef Per assaggiare magari Questo astice ai funghi e porcini Una bontà In realtà Allora, Mary Le bontà tra queste C'è quella Le bontà La degustazione Che riguarda Il mondo delle fritture Quindi io vi suggerisco Di provare tutte le fritture Dello Chef Ferri Perché sono buonissime Allora, Mary Come hai detto Con i tempi Ce l'abbiamo fatta Quindi manca ancora qualche minuto E nel frattempo Ripetiamo un attimo Tutti i passaggi Che abbiamo fatto Quindi padella antederente Abbiamo scusciato i gamberi Messi in padella Insieme olio e aglio E abbiamo fatto Come hai detto tu Che sei diventata bravissima Un mezzo fumetto veloce Abbiamo bagnato Con acqua di cottura Abbiamo aspettato Che si asciugasse Abbiamo aggiunto I funghi Porcini secchi Abbiamo lasciato Cuocere qualche minuto Abbiamo tolto Le teste L'aglio E il peperoncino E gli abbiamo inserito La pasta Le linguine Per risottare No? Come dici tu La nostra pasta Durante la cottura Abbiamo aggiunto Qualche foglia di basilico Sai quella Anzi Le mettiamo un altro po' Dai chef Quella marcia in più Perché il profumo del basilico piace Brava Allora Il basilico È inteso Per il porcino Mentre il prezzemolo Adesso che andiamo a impiattare È inteso Siamo pronti Per Ti faccio un po' Di spazio Chef Ecco qua Siamo pronti Per questo piatto esclusivo Per voi qui a mattina live Preparato In maniera molto speciale Da chef Ma lui lo è sempre Di speciale Non facciamo nulla Perché lo facciamo Qui davanti a loro Davanti a te Quindi Il turbante Nell'aspetto scenografico Eccolo qui Quindi andiamo a salsare Con qualche porcino Qualche ricciolo Di gamberetto Vedi come si arricciano i gamberetti Visto Da sei gamberetti Sono diventati dodici È vero chef E tra l'altro Sono belli corposi Quindi Chef È un primo e un secondo Questo Trucchetti del mestiere Possiamo dire che sia Un primo e un secondo Piatto al contempo No dai Per te sicuramente Per me sicuramente Anzi questo Per me arrivo in piatto Da due giorni Sì esatto Che cosa va bene Come Accoppiamento Da abbinare Un bel bicchiere Di vino bianco Buono Vino bianco Allora Mary Vedi Abbiamo detto Basilico inteso Come porcino Prezzemolo Inteso Al gamberetto Linguine Porcini e gamberetti Una spruzzata Per voi Di pepe Un filo d'olio E come disse sempre Quel mio vecchio Caro amico Et voi latte Et voi latte Buon appetito Grazie a voi Grazie per essere stati con noi Ringrazio naturalmente Chef Ferio per questa Sua gustosissima ricetta Preparata Quest'oggi Qui a Mattina Live Noi ci vediamo domani Restate sintonizzati Sul canale Opa Ciao Baci di Maria Grazie a tutti Grazie a tutti A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti